Internet possa leggere ora gli atti della Costituente tranquillamente, mi pare, anche in Internet. In un discorso del 17 marzo Calamandrei si alzò e fece un discorso che è passato alla storia. Perché? Perché mentre la Costituente lavorava il dibattito era facciamo una Costituzione che risponde solo ai bisogni dell'adesso o facciamo una Costituzione che invece guarda lontano. E Calamandrei usa un termine molto preciso, dice dobbiamo essere presbiti. Cioè dobbiamo guardare lontano. E' chiaro che non dimentichiamo le radici della Costituzione nell'antifascismo ma dobbiamo guardare lontano. Allora, le nostre associazioni Lampi non intervengono nel dibattito politico specifico dei simboli punti della Costituzione o delle proposte di modifica. Ma ci invitano a mettere in atto questo, la lungimiranza, a non fermarci agli interessi di bottega, alle prossime o future elezioni ad esempio, ma a guardare avanti. solamente in questo modo noi ci dovremmo impegnare però. E' qui l'impegno del cittadino, l'impegno dell'antifascista. E non sto a scorrere i principi della Costituzione in cui possiamo impegnarci. per lo tanto